La lettura che presentiamo questa sera si chiama Un Lampo ed è ispirata al concetto di karma, che è una parola che si potrebbe tradurre con l'espressione creare agendo. È una parola che riguarda un significato speciale dell'esistenza, cioè la vita così come si sviluppa sul piano concreto, quindi la storia specifica di ognuno, di ogni uomo, singolarmente di ogni uomo. Il karma è, allora, la traccia lasciata nella mente dall'insieme delle azioni prodotte nel corso della vita. Dunque, allo stesso tempo, ciascuno produce e abita in proprio il campo. Sicuramente la dimensione della lettura collettiva è una dimensione che a me piace molto perché si crea una sorta di abbandono nell'ascolto, di abbandono alle immagini che vengono evocate. A mezzo dello scorrere in interrotto della vita avviene l'evoluzione del pensiero del tempo. La lettura è terminata, ora vi invito ad uscire. Grazie. 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 Grazie.